Riprendiamo con le notizie dello sport con la nostra rassegna stampa. Calcio di Serie C in apertura con la Nazione Perugia. Pure tre anni fa l'avvio non fu super a stessi punti del Grifo che poi però conquistò la Serie B. Le differenze della Rosa, il valore aggiunto è in porta. Baldini dopo Rimini parte degli Ultra critica le sue dichiarazioni con uno striscione. Per la squadra Biancorossi in campo la ripresa oggi pomeriggio. E sabato invece chiude Tifiamo con gli orari del botteghino nell'articolo. In eccellenza Foligno in vetta alla classifica. Mattia dice abbiamo lavorato molto. La CF si code il primo successo stagionale allo stadio Blasone contro l'Olimpia Tirus. Dal Perugia anche il focus sul settore giovanile sempre con la Nazione. Formazioni under 17 e under 15 che partenza arriva il doppio successo contro la Re Canatese. Per la Ternana invece è l'occasione per rialzarsi. Stasera la sfida al del Duca di Ascoli. I rossoverdi sono arrabbiati dopo la beffa con il Sutirol. Turnover ma senza eccessi. In trasferta oltre 600 tifosi. Per il volley di Superlega Sir Perugia. Settimana con doppio test per i Block Devils. Per il calcio di Serie C invece il Gubbio in crescita. Nel Mirino ora c'è il Pescara. Dopo i due giorni di riposo i rosso-blu oggi tornano ad allenarsi. Con il messaggero Ternana la svolta ad Ascoli. La squadra di Cristiano Lucarelli vuole portare a casa punti per la classifica. Da smaltire anche la rabbia per il rigore inesistente. L'attesa verso i mondiali di scherma paralimpica. Bezzali dice ho sfidato Bebevio. Ha vinto lei. L'olimpionica è sottosegretaria all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata all'evento. Grifo, ripartenza e tensioni. Ancora polemiche per l'incendio e sospensione di Rimini. Striscione dei tifosi contro il tecnico Baldini. Zitto e lavora. Oggi la ripresa è in vista del match di Domenico Alcuri contro il Sessi Levante. E domani parte la prevedita. Non solo Sport corri per Leo. Ha vinto Kibet Loitanian per il podismo. Per il ciclismo invece gli atleti, gli talenti, nella UC Foligno brillano al trofeo Coni. In evidenza nel fine settimana le prove di Aurora Bolletta e Damiano Tracolli. Per i motori Vespa Club Assisi. Una stagione a tutto gas nel campionato regionale a squadra. Alla fine il secondo posto. Con il Corriere dell'Umbria invece calcio di serie a bina apertura. Terrana in massa ad Ascoli. Stasera al Del Duca, Lucarelli e i suoi saranno sostenuti da oltre 600 tifosi. Belluccio e Bogdan sono out. Botteghin non è al top. Di Tacchio invece è pronto a guidare il centrocampo. In serie C il Grifo soffre di pareggite. Squadra imbattuta ma 5 segni X su 6 gare sono il record stagionale di tutta la Lega Pro. D'applausi invece il portiere Adamonis, la capacità di reazione e la panchina lunga. Per il notiziario è Paz l'unico giocatore fuori dal gruppo per infortunio. In serie C femminile non basta capitana Giazvadoska. Grifoncelle sconfitte in trasferta dalla Triestina. Finisce il match per 2 a 1. Per il basket di serie C unica la Virtus Assisi. Il terzo Memorial Angelo Tagliolini. Per il volley di Superlega. Sir altre due amichevoli. Per la Susa Vim in campo oggi al Palabarton contro Santa Croce. Domani invece c'è il Siena. In serie A3 sempre per il volley. Erm Group San Giustino regge il confronto con Chemas, Lemiper e Pineto. Per il calcio a serie C Gubbio la difesa è di ferro. Solo due reti al passivo in 5 giornate. Vettorelle imbattuto da tre turni di fila. Dietro non si passa e così il portiere rosso-blu è inoperoso dalla gara di Ancona. La retroguardia non ha subito contraccolpi nemmeno con il passaggio alla linea A4. Storie di ex Alex Gips dice addio al campo. I medici gli dispongono lo stop. Parliamo dell'ex attaccante 39enne ex Mantignana Montemalbe. In serie D Ciampelli alza il morale del Trestine e dice abbiamo fiducia non siamo scarsi. Orvietana invece Fiorucci voleva i tre punti da dedicare a mia moglie Graziella. In eccellenza Proietti sogna un'altra D. Il centrocampista ha tenuto l'atletico BMG in vetta con una doppietta da bomber. il neolaureato in scienza motoria e dice vorrei ripetere la stagione triunfale in Orvieto. Promozione A domenica perfetta al Campitello tre punti e presentazione show. In eccellenza Città di Castello in ansia per il capitano Peluso. Pernici dice aspettiamo l'esito degli esami. Atleti Callievi finale oro l'Umbria si fa bella al Santa Giuliana ottima organizzazione. Di Capanne, Fichi, Abrigo e Befani sul podio. La 2S Spoleto chiude decima, vittoria per Fiamme Gialle e Simoni e Bergamo 1950. Per le bocce Super Cerbara si gioca il pass per la Final Four dell'italiano. Per la mountain bike da Bettona, l'Etruscan Extreme di Panariello esplora dopo 70 chilometri di gara e 2850 metri di dislivello. Per il motociclismo Petrucci che sfortuna si potevo vincere. Danilo dice peccato non avevo mai fatto tanti sorpassi in carriera nella prova in Spagna della Superbike, due cadute e motore out. Per il basket da terni, il ternano Pietro Mandrelli in prima squadra a 16 anni con la Sebastiani Rieti in A2. Per il calcio a 5, Fuzz al ternano, un buon test contro il Viterbo che milita in A1. Reso noto intanto il girone dell'Under-19 allenata da Pucci. Con questa notizia si chiude il nostro TG Mattino che torna in replica e poi puntuale domani alle 7.30, a partire dalle 19.30 invece la nostra informazione serale con il TG Alto Chiascio e Alto Tevere. A tutti voi grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di giornata.